Buongiorno a tutti, vorrei solo ringraziare il mio direttore generale, il mio direttore sanitario per questa opportunità. Gli ringrazio molto di avermi permesso di associare il mio nome a quello di guru in tutti i campi come quelli che abbiamo sentito fino adesso. Io farei partire la presentazione, però non va. Ingegneria clinica, eh? Sì, sì, no, ma per tornare indietro un aiutino per favore. Perché? Allora innanzitutto vi... Le frecce non funzionano. Questo è qua. Perfetto, grazie. Allora, quello che io tendo a proporvi in questo intervento è un'idea di un sistema di indicatori. Un sistema di indicatori inteso non tanto come un paniere di indicatori, di numeri da far ballare in qualche modo per evidenziare i fenomeni, ma proprio un sistema che parte dalla rilevazione del dato, l'analisi del dato, l'elaborazione del dato, la reportistica che viene generata, in qualche modo mostra quello che noi ci proponiamo di evidenziare. Innanzitutto, guardiamo quello che è lo scenario all'interno della regione del Veneto e nello specifico anche all'interno della provincia di Padova, visto che il convegno dice Slow Medicine a Padova, e parliamo di macronumeri. Nello specifico, io ho fatto uno zoom su quella che è la totalità della specialistica ambulatoriale, quindi prestazioni per esterni. Vedete che complessivamente, i numeri più importanti, si parla di circa un 65 milioni, 70 milioni di prestazioni per anno, che sono raggruppati in quattro macro aree. Le quattro macro aree in cui la regione solitamente tende a mettere la sua attenzione sono diagnostica per immagini, riabilitazione, laboratorio e tutto il resto. Tutto il resto è definito branche a visita. La totalità di queste macro aree, in qualche modo, dice 70 milioni di prestazioni. Facendo una divisione terribile dal punto di vista metodologico per la popolazione, quindi andando a prestazioni per abitante, in qualche modo, considerando tutte queste, quindi compreso anche il laboratorio che ovviamente fa la parte del padrone, vediamo già che mostrando i valori delle tre ULS della provincia di Padova, confrontandola con la totalità delle regioni, c'è una variabilità di prestazioni per abitante che è interessante, cioè si può dire molto in qualche modo, è comunque un oggetto di discussione. In realtà vi preannuncio già che, beh, questo è un dato assolutamente grezzo, vi dicevo, ovviamente si potrebbe pesare la popolazione per ULS, quindi definire, come diceva la dottoressa Corti questa mattina, definire sesso e età, o ancora meglio applicare quello che è lo strumento da lei gestito che ci ha presentato prima l'ACG, per evidenziare una pesatura ancora più raffinata della popolazione. Tuttavia, come ci ha detto stamattina la dottoressa Corti, come ci ha evidenziato in una diapositiva, emergeva che anche applicando quel sistema su, in realtà vi dico io, un qualunque ambito di intervento, emerge che comunque i numeri non sono omogenei, cioè ci sono delle differenze elevate tra una ULS e l'altra, piuttosto di una zona di analisi e l'altra. Questo è il motivo per cui anche la parola appropriatezza è venuta fuori in tutte le salse, anche oggi. Fatto questo, andiamo a fare un sottoinsieme, andiamo a vedere le prestazioni di diagnostica per immagini. Vedete che sono circa 3 milioni e mezzo all'anno, quindi più o meno 5% delle prestazioni complessive. Qui vedete che la variabilità, stranamente ma non così stranamente, è leggermente meno mossa in realtà, perché vedete che in qualche modo siamo abbastanza tutti allineati sullo 0708. Se però andiamo a vedere la mappa che c'è sulla destra, in cui vedete tutte le ULS della regione, anche qui vedete importanti variabilità. Tornando alla diapositiva precedente, tanto per darvi un macronumero solo che fa rumore, la valorizzazione economica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale vale 1 miliardo e 100 di euro all'anno. In qualche modo è quello che è il nostro valore di produzione relativo ovviamente soltanto alla specialistica. Vi ricordo che poi abbiamo i ricoveri, poi abbiamo tutto il resto. Ma è tanto per dirvi un numero. Di questo 1 miliardo e 100, se noi andiamo appunto a fare il di cui sulla diagnostica per immagini, vediamo che parliamo comunque sempre di 300 milioni di euro all'anno solo per la diagnostica per immagini. Quindi sono numeri quantomeno importanti. Le prime due cose che possiamo dire sono numeri importanti e c'è una variabilità, diciamo, per azienda che può essere significativa. Procediamo. I tempi di attesa per erogare queste prestazioni, ovviamente in qualche modo c'è un'organizzazione aziendale che comporta il rispetto almeno dei tempi di attesa. È uscito a breve, poco tempo fa, un articolo in cui il nostro presidente ha pubblicato quelli che sono i tempi di attesa e è emerso correttamente che i tempi di attesa in Veneto sono più che buoni, complessivamente più che buoni. Anche qui, leggermente variabili tra un'azienda e un'altra, ma tuttavia complessivamente buoni e sostanzialmente senza problemi enormi quasi da nessuna parte. Sicuramente non nell'area padovana, che è gestita assolutamente bene da questo punto di vista. Nella seconda tabella vedete che, sempre per rispondere meglio ai tempi di attesa, sapete tutti, perché avrete letto, sono state istituite le famose prestazioni serali, prefestive e festive, quindi è stato aggiunto un sistema di erogazione aggiuntivo che in qualche modo ha aiutato a abbassare o quantomeno a contenere quelli che sono i tempi di attesa e risolvere alcune criticità. Questa è cominciata a settembre del 2013 in fase sperimentale, adesso è completamente a regime, insomma, fa parte ormai dell'istituzionale. Parliamo, e qui saluto la dottoressa Grion, che è la mia farmacista, parliamo dei farmaci. Allora, per farvi un discorso di farmaci, di consumo di farmaci per residente, ho escluso la farmaceutica ospedaliera, perché, come sapete, la farmaceutica ospedaliera non prevede gli attributi di associazione al paziente, mentre i flussi della territoriale, della distribuzione per conto e della DDF, in qualche modo, quelli prevedono l'associazione per paziente. Complessivamente, sommando quindi la farmaceutica territoriale e tutte queste cose, vengono fuori un consumo annuo di circa 800 milioni di euro. E anche qui vedete che un importo pro capite, sempre grezzissimo, e perdonate il grezzo, ma serve solo per dare un valore indicativo, vedete che c'è una variabilità importante all'interno della nostra regione. Questi numeri servono a dire una cosa che, fino al mio intervento, è stato detto sempre, però qui ci sono dei numeri. C'è trippa per gatti. Cosa vuol dire? Vuol dire che numeri importanti, ampia variabilità, vuol dire c'è materia su cui lavorare. Questo, ovviamente, voi direte, ci mancherebbe altro, si sapeva anche prima, però, secondo me, era importante circoscriverlo in valori numerici, per quanto grezzi, ripeto, questa parola, comunque significativi. Allora, arriva Choosing Wisely. Dopodiché viene recepito, in slow medicine, all'interno ci sono delle pratiche che vengono divise in pratiche di imaging e di non imaging, cioè, in qualche modo associabili, appunto, all'imaging, oppure no. In realtà, Choosing Wisely ne aveva identificate, concentriamoci sulla parte di imaging 290, all'interno di slow medicine, in questo momento, ne sono confluite 98. Pratiche che vuol dire, tu devi fare questo o non devi fare questo, in sintesi. Io vi do un esempio di pratica, anzi, tre esempi di pratica, per farvi capire qual è l'approccio per me, povero, tra virgolette, controller, cioè quello che guarda i dati, per cercare di capire cosa posso fare con questa pratica. Ve la leggo. Non eseguire screening dell'osteoporosi con densitometria OXA, DEXA, nelle donne inferiori a 65 anni, negli uomini inferiori a 70 anni, in assenza di fattori di rischio. Se non ci fossero le parole, in assenza di fattori di rischio, saremmo a posto. Con i dati che ho nel mio sistema informativo, ho tutto per identificare quella prestazione. In assenza di fattori di rischio, è una cosa che mi frega terribilmente, perché nei miei flussi informativi, questa qui è un'informazione che io non ho da nessuna parte. Spero questo lo capiate. Vi faccio un altro esempio. Non ripetere di routine la densitometria OXA, DEXA, più frequentemente che ogni due anni. Questa è semplicissima. A patto che, in qualche modo, il paziente faccia la prestazione, anche diverse volte, all'interno della regione, partiamo da questo intanto come punto di partenza, qui ho tutto quello che mi serve. Infatti qui, vedete, c'è il faccino verde che ride. C'è del tipo, questa qua, ok, riesco in qualche modo a farla diventare oggetto di un indicatore. Quella precedente, per farvi capire, aveva il segnale stradale e il divieto di sosta, perché qui mi manca un pezzettino. Andiamo ad un altro esempio. Non prescrivere antibiotici per otite media ai bambini di 2-12 anni con sintomi non gravi quando è ragionevole optare per una osservazione. A me qua viene la tristezza dal punto di vista di chi gestisce il dato, perché quando è ragionevole optare per una osservazione, per me, io capisco che ha un contenuto clinico fondamentale, ma io questo dato non so proprio dove andare a prenderlo. Ok. L'antibiotico, peraltro, avete pratica di non imaging, ovviamente, è una cosa su cui Choosing Wisely si è soffermata molto, e per dirvi la misura degli antibiotici, sono il 3%, scusate, del consumo totale dei farmaci. Quindi si parla comunque di 26 milioni di euro. C'è sempre trippa per i gatti. Vado a guardarmi tutto quello che è stato fatto. Sostanzialmente, tutte le pratiche di imaging, e anche quelle di non imaging, sono state identificate in n categorie. Guardate solo le prime due colonne. Nella prima, questa, sono le categorie. Nella seconda, in qualche modo, il numero di pratiche che sono state identificate in slow medicine. Tendo a suggerire solo un paio di cose, ricordo, in qualche modo, l'inquadramento diagnostico di tumori, ricordo nello specifico, per indicare specificità della regione Veneto, e saluto il dottor Saia, che mi ha aiutato a fare questo lavoro, che la rete oncologica istituita dalla regione, in qualche modo, ha definito diversi piani diagnostico-terapeutiche assistenziali, che in qualche modo, hanno portato a cercare di dare indicazioni importanti sull'appropriatezza. Quindi consiglierei, in aggiunta a quanto può essere già all'interno di Choosing Wisely, di recepire anche questi, in qualche modo, e farli diventare un patrimonio informativo comune. Una cosa importantissima, invece, è sui follow-up, perché i follow-up, per noi, sono una criticità molto forte. Tutte le prestazioni che vengono erogate a pazienti, che vengono dimessi, prestazioni erogate entro 30 giorni, come sapete, se sono di follow-up, rientrano all'interno del DRG. Tuttavia, c'è un'enorme diversità di erogazione e prescrizione di queste prestazioni all'interno delle aziende, per cui questa è una cosa su cui assolutamente dobbiamo lavorare in termini di appropriatezza. Andiamo avanti. Scusate. Allora, vi dicevo, quando il dottor Sibeta mi dice organizza un intervento qui, questa è la mia espressione dopo che ho cominciato a leggere tutto quello che sono riuscito a leggere di Slow Medicine e prima di Choosing Wisely. Nel senso, mi manca un pezzo. Mi manca un pezzo e non so cosa andargli a raccontare. E capisco perché manca un pezzo e capisco perché non si trova niente sulla parte, cioè si trova poco, perché proprio manca una parte informativa. Superata la tristezza, dico, vabbè, se manca una parte informativa, se non riesco ad andare alla montagna, cerchiamo di portare la montagna a noi. Estendiamo la base informativa. Questa è la fotografia della qualità dei dati all'interno del Veneto, fotografata nel 2012. Nel 2013, diciamo adesso, vedete che nel 2012 è quella rossa. In qualche modo, vedete che è un grafico, un radar n-dimensionale, dove ogni dimensione è un'area di interesse. vedrete che in qualche modo, lo vedete da lì, noi sapevamo tutto di quelli che sono i dati amministrativi, tutto. Molto poco dei dati clinici, prima perché non c'erano le cartelle cliniche informatizzate, poi perché all'inizio la storia dell'informatica dice, in qualunque ambito, sanità compresa, prima ci occupiamo di soldi e attività, poi ci occupiamo di qualità, proprietà, tutto quello che volete. Quindi la storia è stata questa. Però, vedete che ci stiamo allargando e stiamo migliorando molto. I dati sanitari che entrano sono sempre di più e sono soprattutto sempre di qualità più buona. Quindi possiamo cominciare a dire che abbiamo del materiale su cui lavorare. Tuttavia, i flussi che attualmente sono oggetto dell'invio dalle aziende alla Regione, piuttosto che dalla Regione al Ministero, non aiutano, come vi ho detto all'inizio, sull'identificazione di molte delle pratiche identificate da Choosing Wisely e da Slow Medicine, e recepite da Slow Medicine. È necessario integrare delle basi di dati che in questo momento hanno un contenuto informativo eccezionale, solo che ancora non sono state storicamente integrate. Mi riferisco, per esempio, alle basi dati contenute all'interno delle procedure dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, che hanno delle informazioni eccezionali, perché in realtà molti dei pazienti conoscono a mena dito, in teoria, i pazienti che vedono, perché comunque li vedono molto più spesso di un ospedale, chiaramente. Mi riferisco alle cartelle ambulatoriali. Le cartelle ambulatoriali informatizzate che ci sono all'interno di molte aziende sanitarie, hanno dei dati che contengono valori clinici che possono essere assolutamente riutilizzabili. Mi riferisco alla cartella clinica di reparto, che anche quella ovviamente contiene dei dati eccezionali, in termini anche di anamnesi, di diario clinico, e mi riferisco, mi vengono in mente queste, insomma, alla procedura di prescrizione e somministrazione del farmaco, che ovviamente mi dà delle indicazioni fondamentali su quello che riceve il paziente a letto o comunque finché è ricoverato. Di più, ciascun sistema informativo, e l'esempio ultimo ve l'ho fatto apposta, quello di prescrizione e somministrazione, spesso è alimentato da una multiprofessionalità. Sapete che la prescrizione, ovviamente, cioè, ve lo dico, la fa, la scrive anche in procedura, comunque la regista in procedura, il medico, ma l'effettiva somministrazione, che è un dato importantissimo, la fa l'infermiere. Per cui, tornando a quello che ha detto prima il professor Lusiani, è importantissimo valorizzare anche le altre categorie, perché in realtà sono fuoriere di dati veramente significativi. Questo è il messaggio che volevo darvi. Dove mettere tutto questo bidone? Quindi, cominciamo a dire, ragioniamo su incrociare i dati, prendere dati, prendere flussi diversi e mettiamoli insieme. In accordo con il direttore generale dell'area sanità e sociale della regione, in qualche modo, sono stato autorizzato a offrire la disponibilità del nostro Data Warehouse socio-sanitario regionale come bidone su cui inserire tutti i dati che mancano. noi abbiamo una tecnologia che in questo momento è eccezionale dal punto di vista, vi garantisco che è molto più complicato farla lavorare talmente cose può fare, piuttosto di... e quindi in qualche modo l'idea è identifichiamo le informazioni mancanti, utilizziamo strumenti che già esistono senza inventarci niente all'interno della regione e in qualche modo creiamo una base dati condivisa che possa aiutare anche Slow Medicine a identificare le sue pratiche. Nessun problema, questa è una diapositiva solo, tra virgolette, terapeutica, perché non c'è nessun problema di anonimizzazione, se qualcuno teme questo, perché abbiamo una procedura di anonimizzazione che è letteratura pura e che è assolutamente sicura, incontestabile tutto. Quindi qualunque cosa arriva provvediamo noi, perché chiaramente voi capite che se io prendo il dato dal medico di medicina generale su un paziente che può chiamarsi Bepi Sugaman, in qualche modo è importante che sia lo stesso paziente che è stato ricoverato in ospedale quel giorno, ha ricevuto un attac in specialistica ambulatoriale un altro giorno, è importante che ci sia ovviamente l'associazione allo stesso paziente. E noi abbiamo uno strumento eccezionale per fare questo. Il percorso quindi cos'è? Definito lo scenario e definito lo strumento, beh, basta fare ovviamente dei gruppi di lavoro, poi questa è la mia proposta, dopodiché naturalmente è solo una proposta, gruppi di lavoro che identificano i contenuti clinici e identificano clinicamente quali sono le informazioni che mancano, ok, e ci dicono dove andare a prenderle, e dopodiché abbiamo, vedete, queste due fasi predittiva e consuntiva che in qualche modo cosa fanno? La prima predittiva semplicemente dice preso lo scenario e capito la potenzialità su cui si può andare a colpire, ti posso dire che potrei aspettarmi una riduzione. L'intervento che prima era della regione era razionalizzare per non razionare, ok? Noi stiamo parlando di razionalizzare. Il secondo, una fase ex post, mi dice ha avuto efficacia sta roba, sono effettivamente calate queste prestazioni, andiamola a vedere. Questo molto semplicemente. Gli strumenti di reportistica sono ancora una volta quelli regionali che sono, che pubblicano nativamente, quindi vuol dire senza dover usare procedure stranissime, direttamente su anche dispositivi mobili, ma proprio con una facilità spaventosa, dati che vengono automaticamente aggiornati quando arriva un flusso nuovo, quindi neanche nessuna preoccupazione di dire ho l'ultima versione del report, perché quando tu vai a consultare vedi sempre gli ultimi dati disponibili. L'effetto cos'è? Partendo da recepimento e attuazione delle pratiche slow medicine, ovviamente abbiamo detto, riassumendo, arricchimento dei dati sanitari, monitoraggio continuo e costante, perché non è solo, cioè non è proprio banale la cosa, non si può dire mettiamo l'informazione a posto, bisogna essere sicuri che poi questa informazione sia compilata bene e se no andare a riprenderla n volte finché non abbiamo una qualità ragionevole. Miglioramento quindi per forza della qualità del dato da cui si può fare appropriatezza, benchmarking, poi ci può essere una conseguenza sulla programmazione. La programmazione scende e ci porta alla definizione delle buone pratiche. Ok? Qual è quindi il contributo che io normalmente vengo identificato come controller? Un controller può fare in una comunità clinica come quella che voi rappresentate. Allora, io di solito portafortuna ho sempre associato in qualche modo la sanità come un viaggio in gondola. Mi piace molto come idea per certe cose. Io vi chiedo, considerando che voi siete i clinici e ovviamente siete i gondolieri, vi chiedo fatemi fare non tanto il remo quanto la forcola. Cioè il supporto vero ha lo strumento che vi porterà alle direzioni in cui volete andare per un viaggio tranquillo o non tranquillo a seconda di come sarà il mare però tranquillo. Quindi fatemi fare la forcola quindi estendiamo il patrimonio formativo definiamo insieme gli indicatori e poi pubblichiamo i valori. Le destinazioni dove andrà sta gondola? Allora partiamo da quello che abbiamo detto fino adesso riduzione della spesa in qualche modo una riduzione della prestazione da una parte sarà riduzione della spesa che non è necessariamente risparmio nel senso di soldi messi questo l'abbiamo detto tante volte però aiuta quella che è la sostenibilità di un sistema che non è più sostenibile dobbiamo fare qualcosa slow medicine piuttosto di un'alternativa non è una opportunità è una necessità altrimenti fra qualche anno ci troviamo qui a raccontarci che dobbiamo veramente chiudere degli ospedali perché non siamo più in grado di mantenerli una riduzione delle prestazioni vuol dire quello che aveva definito prima sempre il professor Lusiani la relazione comprensiva diceva con il paziente cioè in qualche modo che ci sia un po' più di tempo perché un po' meno prestazioni da fare per il medico di ascoltare questo paziente e la cosa qui c'è una foto secondo me carida vedete i bambini che attendono la medicina una riduzione inevitabile dei tempi di attesa ancora un miglioramento cioè per quanto abbiamo detto partiamo da una condizione già buona ma come ha detto anche il presidente Padrin questa mattina tutto ovviamente è sempre migliorabile qui abbiamo ancora un po' di margine di miglioramento i passeggeri di questo viaggio sono due sono ovviamente il medico alla quale abbiamo tirato con le fionde la parola appropriatezza centomila volte oggi beh io dico che la proprietzza e anche questo è stato ovviamente detto la proprietzza deve essere di entrambi quindi deve essere anche del paziente dobbiamo lavorare indipendentemente da tutto questo ambaradan che ho cercato di presentarvi che avete visto più o meno richiede un due anni di lavoro c'è un lavoro molto più lungo e molto più continuo che è quello di produrre cultura cultura verso medici o personale sanitario ma soprattutto cultura verso pazienti il paziente che deve imparare a chiedere quello che è giusto che chieda chiudo con una frase di Illich che è stato riferito cioè è stato nominato questa mattina che mi è piaciuta molto durante tutto quello che ho imparato in questo studio per portarvi questa presentazione dopo la cura della malattia anche la cura della salute è diventata una merce ci si tramuta in pazienti senza essere malati cioè vediamo che il paziente impari a fare il paziente e sia un pochino più paziente grazie e interventi grazie grazie a tutti grazie a tutti